c'è un frigorifero bianco sul tratto dell'autostrada a 29 che collega palermo a mazzara del vallo è stato nascosto dietro al guardrail nel punto in cui la strada incrocia lo svincolo per capaci nel comune di isola delle femmine non è lì per caso sotto l'autostrada all'altezza di quel frigorifero passa un tunnel di scolo per l'acqua lì qualcuno ha piazzato 13 fusti con 400 chilogrammi di tritolo nitrato di ammonio rdx non troppo lontano sulle colline lì vicino giovanni brusca giovanni battaglia e antonino gioè fumano appostati dietro un piccolo muro in cemento da lì aspettano l'arrivo delle tre fiat croma che accompagnano il giudice giovanni falcone e sua moglie alle 17 58 del 23 maggio 1992 gli uomini di totorina che nell'attesa hanno finito quattro pacchetti di sigarette avvistano le auto ma giovanni brusca l'uomo che ha in mano il detonatore aspetta a schiacciare il pulsante è convinto che le auto stiano andando più piano del previsto poi passato il tempo che deve passare preme quel pulsante la prima croma bianca in testa viene investita dall'esplosione sbalzata di 60 metri uccidendo sul colpo gli agenti antonio montinaro vito schifani e rocco di cillo la seconda auto una croma marrone su cui viaggiano giovanni falcone e la moglie francesca morvillo si scontra contro il muro di asfalto che nella deflagrazione è stato sradicato da terra gli agenti che guidano la terza auto invece si salvano e tra i sopravvissuti c'è anche giuseppe costanza l'autista di falcone che invece di essere la guida dell'auto del giudice è seduto dietro io sono lorenzo varavalle io sono lorenzo pregliasco e questo e qui si fa l'italia i momenti che hanno fatto la storia del nostro paese raccontati a chi come noi non li ha vissuti buonasera 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 a tutti ciao siamo all'ultimo appuntamento di questa mini rassegna di tre incontri qui si fa l'italia live bello poter raccontare di di queste stragi di questa ferita profonda in italia a 30 anni festeggiamo i 30 anni se possiamo dire festeggiamo commemoriamo commemoriamo i 30 anni tra pochi giorni con noi stasera con me lorenzo c'è martina martina santi che ha curato ha scritto lo script di questa puntata del podcast e poi in tutto il resto del podcast si è occupata di della cura dei contributi esterni quindi se avete ascoltato il podcast tutto quello che arriva da fuori tutte le citazioni e tutto quello che tutto quello che appunto arriva da fuori scusatemi arriva da dalla testa e dalle mani di martina non è con noi questa sera per un contrattempo lavorativo simonetta shandivashi che avete conosciuto alcuni di voi hanno conosciuto o rincontrato nella prima tappa di cui si fa l'italia live ma insomma ce la caveremo in qualche modo anche anche noi tre e volevo cominciare facendo un passo indietro spesso e vi abbiamo proposto questo esercizio anche nel podcast e nelle serate qui al circolo dei lettori cioè partiamo da un momento poi riavvolgiamo il nastro e riavvolgiamo il nastro di tanti anni di tanti anni di circa di quasi 100 anni in un certo senso perché arriviamo alla fine dell'ottocento dopo dopo l'unità dopo l'unità dopo l'unità d'italia e coinvolgo subito subito martina perché insomma ci sono delle storie interessanti legate a che cos'era come era percepita la mafia quando è nata in un certo senso quindi quindi negli ultimi decenni dell'ottocento era una mafia legata molto all'agricoltura no la mafia feudale veniva definita sì esatto quello che cerchiamo di fare emergere nel podcast è che era una mafia veramente molto diversa da quella che magari conosciamo più comunemente la mafia degli anni 90 e provate ad immaginare la sicilia post unità d'italia era una terra veramente povera arretrata con pochissime eccezioni tipo palerbo però per lo più una terra dove la gente era analfabeta e soprattutto una terra che non si riconosceva in quell'italia che stava nascendo che non non sentiva di appartenere a questa nuova realtà e di conseguenza neanche sentiva di dover riconoscere quella autorità che si stava formando e che diceva io adesso amministro questo territorio quindi che cosa succede succede che di fatto gli uomini di potere in sicilia cominciano a farsi ad amministrarsi da soli ad avere sempre più controllo sulle proprie zone e come diceva lorenzo all'inizio abbiamo un tipo di controllo legato ai commerci di quell'epoca ad esempio quella è la mafia del di fine 1800 una mafia che ha un controllo su i terreni e sui proprietari terrieri la mafia comincia a imporre i propri uomini ai proprietari terrieri in questo modo finisce per avere di fatto il controllo su quei territori è una mafia che ha il controllo sul commercio degli agrumi che in quegli anni è il più redditizio di tutta l'Europa quindi è sicuramente ancora molto in una fase nascente ma che comunque comincia a mettere le sue radici in tutto ciò però c'è già qualcuno che riconosce il potenziale criminale di questo fenomeno nel podcast lo citiamo Ermanno San Giorgi che è un personaggio veramente incredibile perché perché nel già nel 1800 lui capisce la portata di questo fenomeno cioè lui studia le bande armate siciliane e capisce che non ha di fronte delle bande disorganizzate dei fenomeni singoli ma capisce che ha di fronte un vero e proprio fenomeno strutturato e organizzato e quindi cerca di portare avanti eccolo il primo processo alla mafia quello che possiamo considerare il primo tentativo di processare la mafia in quanto tale poi come sappiamo non ci riuscirà nel senso che lui porta alla sbarra oltre 200 uomini ma poi ne vengono condannati una trentina quindi numeri da da ridere però la la potenza di questo processo è che siamo appunto già ad un primo tentativo di riconoscerlo eh questo fenomeno qual è il grosso problema che incontra eh Ermanno San Giorgi una è la l'omertà il profondo senso di omertà che praticamente gli impedisce di trovare qualcuno che vada a testimoniare il secondo grosso problema è che all'epoca la mafia come anticipava Lorenzo semplicemente per la maggior parte delle persone non esisteva e quindi chi prendeva seriamente la mafia veniva deriso paradossalmente quando invece noi oggi abbiamo una concezione completamente diversa chi era il mafioso nel 1800 era banalmente un il classico siciliano all'epoca si credeva che con il termine mafioso si indicasse proprio ehm il tipico uomo siciliano caratterizzato da questo atteggiamento molto fiero molto orgoglioso con un profondo senso di ehm sì di di fierezza di orgoglio di orgoglio di onore ecco e quindi si limitava la mafia a questo eh per questo chi appunto chi la prendeva più seriamente finiva quasi per essere deriso e e il fenomeno nella sua totalità veniva molto limitato e eh e circoscritto. Possiamo dire eh Martino una cosa credo importante che conferma quello che dici tu questa tra l'altro una vignetta del 1901 che illustra proprio quel primissimo tentativo embrionale direi no di processo di processo alla mafia quindi una vignetta d'epoca eh e però come spesso accade ciò che non ha un nome non esiste no se vogliamo tu dicevi poco fa mafioso per molti anni non aveva un'accezione criminale cioè non aveva il portato no che noi oggi associamo alla parola mafioso documentandoci per il podcast e per questa serata abbiamo no ricercato anche un po' l'etimologia e si si vede molto bene come nella diciamo negli ultimi decenni dell'ottocento mafia e mafioso indicassero una persona di spicco indicassero un atteggiamento non indicavano un concetto criminale guardate che questo è un tratto è un tratto decisivo e poi molti decenni dopo ciò di cui abbiamo appena parlato qui siamo tra fine ottocento e primissimi anni del novecento accade un'altra cosa no che c'è un personaggio sì molto lontano geograficamente dalla sicilia sì 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 che da un nome a quello di cui parliamo sì esatto dobbiamo attendere il 1962 e dobbiamo andare negli Stati Uniti eh prima che Giovalaki un boss italo americano eh condannato che però decide di collaborare con l'FBI per evitare la sedia elettrica ehm e sarà lui proprio a eh a dare un nome alla mafia e a dire questo eh a dire quello che ascoltiamo sì quello che tra poco ascolteremo ovvero che la mafia ha un nome una forma e questo nome è cosa nostra lo sentiamo perché qui c'è la come dire la deposizione originale di eh questo boss che risponde in inglese ma si capisce bene quel che dice cosa nostra no con questo accento molto americano our thing our family no esatto sì e questo è diciamo il momento in cui si comincia veramente a dare un nome a questa organizzazione criminale quello che stupisce è che dal processo San Giorgi fino a questo momento qua di fatto la mafia ha potuto perdurare e vivere e anche ehm eh svilupparsi e passare da mafia del feudo a mafia eh imprenditrice multinazionale che non è più interessata agli agrumi ma adesso ha cambiato il suo interesse ora guarda al cemento al traffico di eroina e tutto questo pressoché senza ostacoli certo e e sono decine di anni quelle che passano ovviamente tra i primi tentativi di del questore San Giorgi di che poi fu questore molto per molto poco tempo un paio d'anni sostanzialmente eh tra il tentativo di riconoscere prima ancora che perseguire la mafia come fenomeno criminale e il momento in cui la mafia entra nel discorso pubblico cioè noi oggi siamo convinti che ci sia sempre stata la percezione della mafia no invece fino a tempi relativamente recenti non c'era la percezione della mafia come elemento del dibattito pubblico ehm Lorenzo eh nonché Lollo se vogliamo se vogliamo distinguerci perché abbiamo la sventura di portare lo stesso nome allora abbiamo detto Valachi siamo al 1962 no quelli sono gli anni 60 70 in cui cosa accade accade che la mafia si trasforma no e nel frattempo l'Italia non è che fosse proprio non avesse niente a cui pensare no Il punto di quegli anni è che sì è vero la mafia diventa imprenditrice diventa mafia del del cemento lo dirà anche un importante magistrato Rocco Chinnici qualche anno dopo ma il punto è che diventa quella mafia anche grazie alla connivenza con politica con la politica locale con la politica siciliana perché come dicevi giustamente tu in Italia negli anni tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 80 l'attenzione pubblica perché guardate qui il punto è una cosa che ha detto giustamente prima Martina il primo processo alla mafia quindi il l'attenzione il fuoco del dell'opinione pubblica era tutto da un'altra parte era al terrorismo era alle stragi agli anni di piombo iniziati con Verza Fontana e finiti nell'ottanta con la stazione di Bologna quindi c'era una tutta un'attenzione pubblica e un racconto sui media sui giornali sulle prime pagine dei giornali che vedremo tra poco molto diverso rispetto a quello che siamo abituati e Falcone e Borsellino si inseriscono proprio in questo la loro importanza al momento che segna un prima un dopo e nella nostra percezione anche che abbiamo oggi ancora del fenomeno mafioso noi qui vediamo un momento cruciale l'inizio diciamo così dell'uscita pubblica potremmo dire della mafia dalla Sicilia un po' sui media di tutta Italia perché abbiamo i Rina Provenzano e Bagarella la fazione corleonese di Cosa Nostra che cerca di fare le scarpe a Tano Badalamenti Tano Badalamenti il boss che ordinò l'uccisione di Peppino Impastato il 9 di maggio del 1978 data tristemente nota anche per l'omicidio Moro quindi curiosamente nello stesso giorno abbiamo di nuovo questo fatto il terrorismo italiano Aldo Moro ma poi in Sicilia stava succedendo dell'altro e c'era Peppino Impastato che proveniva da una famiglia mafiosa e che con la sua radio privata Radio Out denunciava la mafia di Cinisi del suo paese e qui appunto chiederei a Martina qui vediamo sostanzialmente alcuni volti dei protagonisti della mafia ma soprattutto dei protagonisti della guerra di mafia che si consuma diciamo tra gli anni 70 e l'inizio degli anni 80 è la cosiddetta presa di potere da parte dei corleonesi Corleone lo sappiamo è una località vicino a Palermo come si realizza questa presa di potere? nel podcast c'è un estratto di una intervista a Giuseppe Ayala altro noto giudice antimafia che dice insomma a un certo punto i corleonesi si stufano sostanzialmente dell'equilibrio di poteri e entrano in gioco i Kalashnikov usa questa espressione che cos'è la guerra di mafia e che cos'è l'ascesa dei corleonesi Martina in qualche parola? ma la guerra di mafia è il momento che segna veramente un nuovo capitolo per Cosa Nostra perché abbiamo questa nuova fazione corleonese guidata da Luciano Liggio che a tutti gli effetti dichiara guerra contro l'altra grande fazione di Cosa Nostra guidata da Badalamenti che però era formata da persone di spicco tutti uomini d'onore che si erano arricchiti col sacco di Palermo paradossalmente i corleonesi arrivavano da un paesino arretratissimo possiamo immaginare la corleone di quegli anni come un paese in cui i bambini camminano scalzi gli animali sono liberi, c'è il fango ovunque è veramente proprio il simbolo della retratezza siciliana diciamo cos'è il sacco di Palermo visto che l'hai citato l'abbiamo più o meno citato già prima sì, fa riferimento ad un periodo tra gli anni 50 e 60 in cui a Palermo Palermo è vittima degli abusi edilizi per cui vengono costruiti centinaia di palazzi abusivi grazie proprio a questa convivenza fra politici locali pensiamo ad esempio a persone come Vito Ciancimino o Salvolima che hanno permesso appunto la costruzione di questi enormi abusi edilizi e quindi questa fazione corleonese che cosa fa? decide di dichiarare guerra a quest'altra fazione in che modo? Sostanzialmente uccidendo ogni possibile rivale e gli anni 80 sono veramente anni in cui a Palermo ogni giorno c'è almeno una sparatoria un'esplosione sono anni in cui diventa un campo di battaglia questa città e lentamente riescono a far fuori i principali esponenti dell'altra fazione come Bontate, Inzerillo, Badalamenti poi verrà appunto processato e finalmente accusato dell'omicidio in passato quindi alla fine Badalamenti impastato dopo molti anni tra l'altro 24 sì, 24 anni quindi di fatto riescono a prendere il controllo di Cosa Nostra però nel prendere il controllo di Cosa Nostra loro attuano a una politica completamente diversa dai mafiosi diciamo di vecchio stampo di vecchia scuola e attuano la cosiddetta fase stragista che infatti rappresenta un po' probabilmente la fase della mafia a cui tutti noi per prossimità per lo scalpore che ovviamente ha generato rappresenta la fase della mafia a cui tutti noi associamo quasi istantaneamente e istintivamente il concetto di Cosa Nostra e però è stata solo una fase in realtà della lunga storia della mafia abbiamo raccontato prima come all'inizio fosse un fenomeno feudale legato all'agricoltura poi fosse diventato un fenomeno molto legato alla speculazione edilizia e al narcotraffico nel corso degli anni Ottanta la mafia assume i contorni della mafia stragista della mafia che mette le bombe e che bersaglia chi? Personalità politiche e personalità delle forze dell'ordine degli apparati dello Stato della magistratura come vedremo tra un attimo e quindi si apre questo decennio abbondante di sangue che colpisce molte vittime che colpisce molti rappresentanti di una politica che in un certo senso testimonia di non volersi piegare alla mafia questo è anche un concetto molto interessante che ci ha trasmesso Enrico Mentana che è l'ospite di questa puntata del podcast quando lui dice insomma gli anni Ottanta rappresentano il momento in cui la mafia inizia a colpire la politica che non si sottomette alla mafia prima vi dicevamo delle connivenze tra alcuni esponenti alcuni diciamo più di un esponente politico e la mafia negli anni Ottanta accadono un po' di cose accade per esempio 1980 l'assassinio di Pier Santi Mattarella che era il presidente della regione siciliana e che era stavo per dire un congiunto qualcuno di voi ricorderà quel passaggio ne stiamo uscendo da questi due anni di congiunto no ma era il fratello evidentemente dell'attuale capo dello Stato tra l'altro c'è anche una somiglianza abbastanza evidente vero nel volto tra Pier Santi e Sergio Mattarella che qui è immortalato in uno scatto famosissimo c'è il presidente Mattarella presidente della Repubblica Mattarella preso di di sbieco con il corpo di fatto del fratello in tra le braccia questa è una foto che recentemente è stata ricordata lo scatto di Letizia Battaglia che è mancata poche settimane fa ed è la più grande fotografa di mafia e della guerra alla mafia ci sono ci sarà anche un'altra foto più tardi molto emozionante a mio modo di vedere di Falcone Borsellino giovani Letizia Battaglia in questo scatto ha raccontato di come lei dovesse farsi avanti nella folla di giornalisti proprio perché donna ha gomitate per poter riuscire ad arrivare a scattare e questa foto qui è incredibile per l'angolo in cui è riuscita a prenderla e per la storia che poi inconsapevolmente ha raccontato sì peraltro in questa foto il presidente Mattarella ha 38 anni che insomma colpisce pensare quanto tempo sia passato e quanto dopo tutto lo riconosciamo così facilmente peraltro un episodio che lo stesso presidente Mattarella ha raccontato molto poco mi pare abbia raccontato solo in un'intervista alla CNN di alcuni anni fa e ve la trovate su YouTube se la cercate mi pare a Cristiana Manpur che è la più nota giornalista cronista internazionale della CNN e qui abbiamo insomma il modo in cui i giornali dell'epoca danno conto di quello che accade come vedete è il titolo di apertura ma non è un titolo diciamo con enorme risalto ucciso sotto casa Mattarella DC presidente della regione Sicilia e quindi insomma questo è un po' l'inizio se vogliamo uno dei primi momenti in cui la mafia uccide e colpisce diciamo così a suo modo il potere politico c'è un altro personaggio molto rilevante un'altra vittima molto rilevante della mafia siamo nel 1982 quindi poco tempo dopo parliamo di di Piola Torre che era deputato del partito comunista era membro della commissione antimafia era il promotore della legge tuttora in vigore forse con qualche modifica che disciplina il sequestro dei beni alla mafia che si chiama tuttora in suo onore questa diciamo è la scena la triste scena dell'eccidio della strage peraltro nel podcast riportiamo la reazione di Enrico Berlinguer che in quel momento era segretario del partito comunista e che disse abbiamo perduto uno dei nostri uomini migliori insomma dice dice di aver perso un fratello sostanzialmente in Piola Torre e lo vediamo anche qua tra l'altro notate il peso delle notizie siamo nella crisi delle Falkland siamo nella crisi delle Falkland quindi molta attenzione su quello e diciamo taglio destro con la notizia del deputato Piccilla Torre ucciso in un agguato taglio molto cronachistico no? e poi cosa accade? accade siamo sempre nel 1982 e chi di voi era presente alla scorsa puntata quella su Pertini lo ricorderà perché cosa succede? succede che il 3 settembre quindi neanche due mesi dopo Italia Germania Ovest al Bernabeu quella con Pertini la finale in cui vinciamo i mondiali neanche due mesi dopo un altro protagonista direi della storia italiana di quel momento perde la vita per mano mafiosa e parliamo tra l'altro di un piemontese che è Carlo Alberto dalla Chiesa ti vorrei correggere di Saluzzo nativo di Saluzzo nativo di Saluzzo come appunto Lollo è questo il riferimento Carlo Alberto la Chiesa figura che diciamo negli anni precedenti era stato forse il principale responsabile dal punto di vista dell'ordine pubblico della lotta al terrorismo politico soprattutto al terrorismo di matrice diciamo comunista di matrice rossa e Carlo Alberto dalla Chiesa si trova a Palermo in quel momento come prefetto di Palermo nominato da poco peraltro ci sono molte molte testimonianze su quanto lui percepisse di non avere gli strumenti per fare davvero la lotta alla mafia come sarebbe stato opportuno ma è il prefetto di Palermo in quel momento era generale dei carabinieri e una sera mentre sta andando a cena con la moglie a Mondello in un ristorante di Mondello mentre sta andando là in auto si affiancano alla loro auto un'altra auto e una moto e vengono uccisi entrambi e dopo di che viene ucciso anche l'unico agente della scorta presente c'è questa foto piuttosto cruda ma molto nota della diciamo scena del delitto per cui insomma se siete impressionabili vi impressionerà sicuramente ma questo è quello che è accaduto il 3 settembre del 1982 in una via di Palermo e qui vediamo anche rispetto a quello che dicevamo prima come inizia a cambiare lo vediamo anche dai pesi sui titoli dei giornali la percezione di questo fenomeno dalla chiesa era una figura molto nota di grande profilo di grande spessore e poi arriviamo a un momento che segna un po' un passaggio Lollo perché è il momento nel quale in un certo senso si pongono le basi per quello che porterà al maxiprocesso alle stragi del 92 e in un certo senso alla fine di quella mafia di quella stagione della mafia viene infatti assassinato un magistrato viene assassinato il magistrato che ebbe l'intuizione di creare il pool antimafia e quindi di combattere la mafia di fare un processo alla mafia e non un processo di mafia e la differenza è sostanziale ed importante perché Rocco Chinnici ebbe l'intuizione di non combattere la mafia con singoli con singole indagini separatamente sparpagliatamente ma di cominciare a trattare la mafia come un fenomeno unico come un fenomeno tutto collegato e quindi da lì l'intuizione di creare il pool antimafia cioè una squadra un team di magistrati che lavorano in gruppo per istituire un processo unico alla mafia siciliana a Cosa Nostra ma sfortunatamente e a causa di questo proprio perché questa intuizione questa idea cominciava a farsi farsi strada e Cosa Nostra sapeva quanto fosse pericoloso uscire alla luce del sole in questa maniera venne fatto saltare in aria sotto casa viene assassinato nel 1983 qui vediamo la strada di casa sua dopo l'attentato peraltro muore lui muoiono se non ritrova male due o tre tra agenti di polizia carabinieri e muore anche nella fatalità tragica il portiere del suo stabile che si era avvicinato a lui per salutarlo come faceva tutte le mattine e rimane vittima dello scoppio di un'autobomba sostanzialmente che era stata piazzata davanti a casa sua ecco Lorenzo scusami ma faccio solo notare come è cambiato anche il modo di assassinare gli avversari i politici e i magistrati abbiamo visto prima delle morti in strada degli agguati di guerriglia qui invece è per lasciare un segno importante si diciamo si passa proprio alla mafia delle stragi delle bombe che è un po' insomma quella da cui abbiamo cominciato raccontando Capaci maggio 1992 e insomma non è un caso che abbiamo scelto di chiudere con questa puntata perché siamo nel maggio del 2022 e si si commemorano appunto i 30 anni da quel da quel attacco non solo a Giovanni Falcone ma anche alla nostra Repubblica in un certo senso insomma l'assassinio di di Rocco Chinnici strage della mafia a Palermo per uccidere un giudice scomodo mentre vedete i tracce dell'instabilità politica no Pertini sollecita Craxi governo entro 15 giorni c'erano state da come dire da poco le elezioni politiche Craxi sarebbe diventato presidente del consiglio e come dire eravamo alla vigilia di un nuovo governo qui vediamo l'unità che parla di terrore mafioso e c'è anche questo riferimento devo dire no piuttosto forte Palermo come Beirut cioè l'idea di un livello di stragismo che quasi fa pensare di non essere in Italia di non essere in Europa ma di essere di essere altrove e dicevi dicevi Lollo giustamente che Rocco Chinnici cioè la vittima di questo attentato nel 1983 è l'ispiratore del pool antimafia cioè l'intuizione che ha è noi non possiamo trattare la mafia come un qualcosa che produce singoli effetti non dobbiamo andare dietro al singolo evento al singolo omicidio alla singola estorsione noi dobbiamo abituarci a combattere la mafia così come abbiamo combattuto il terrorismo siamo veramente a pochi anni dalla quasi contemporanei alla fase finale degli anni di piombo ok e quindi l'intuizione di Rocco Chinnici è costruiamo un pool collaboriamo tra magistrati affrontiamo la mafia come un problema sistemico e qui vediamo tra l'altro una una immagine del pool no di magistrati tra cui si riconoscono non solo Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che peraltro qui vediamo in altri scatti fosse qui facevi a questa che facevi riferimento quella dopo questa qui che è un'altra foto diciamo non tra le più celebri ma molto molto bella della stessa autrice della fotografia di Pier Santi e Sergio e Sergio Mattarella e insomma qui siamo se vogliamo all'ingresso di Paolo Borsellino Giovanni Falcone nella storia effettiva della lotta alla mafia loro possiamo dirlo si conoscevano da ragazzini si conoscevano da ragazzini anche perché se non ricordo male abitavano nascono a 200 metri di distanza l'uno dall'altro quindi giocano lo raccontano anche loro giocano a calcio insieme per le strade crescono insieme si iscrivono tutti e due a giurisprudenza fanno magistratura ma è interessante diamo anche questa nota di colore politico Falcone più legato a ambienti di sinistra mentre invece Borsellino più ad ambienti di destra si è riscritto anche al movimento studentesco dell'MSI ed è poi scusami è stato sempre considerato un patrimonio dalla parte della destra italiana insomma all'epoca e successivamente è un nome che quella parte di spettro politico ha molto spesso molto spesso rivendicato quindi è vero divisi politicamente ma uniti da un'amicizia che nasce davvero dall'infanzia poi studiano bene o male insieme hanno il primo incarico nello stesso anno uno a Trapani l'altro a Mazzara del Vallo quindi anche geograficamente piuttosto vicino ma bisogna dirlo Giovanni Falcone in questa fase gioca un ruolo decisivo nella lotta alla mafia e lo gioca con con grande astuzia perché riesce a convincere un personaggio che è la chiave di volta di tutta questa storia perché è vero Chinnici è vero Falcone Borsellino ma se non ci fosse stato questo personaggio non ci sarebbe stato probabilmente il maxiprocesso il primo grande pentito di Cosa Nostra Tommaso Buscetta Don Masino il boss dei due mondi viene catturato in Brasile molti di noi avranno visto il film Il Traditore con Favino che lo interpreta magistralmente e lo interpreta magistralmente perché riesce a raccontare di Buscetta quel lato anche più più glamour quel lato che lo rende molto molto distante dai mafiosi della fazione corleonese ci raccontava Martina una fazione brutale ma anche molto semplice Sì ma infatti in realtà Buscetta rivendica spesso questa sua distanza dei corleonesi e lui si definisce un mafioso elegante della vecchia scuola e rinnega assolutamente tutte le azioni dei corleonesi quando invece quasi guarda con rimpianto la vecchia mafia e intanto lui dice di essere come dire di vedere traditi questi valori della mafia di una volta e però specifica che poi sono valori che valgono per chi è fuori dalla legalità lui dice una frase del genere devo collegare il computer a una presa di corrente mentre faccio questo passaggio vi metto una foto di Buscetta che effettivamente è indicativa di quello che dicevano qui siamo al maxiprocesso eccolo qua lui rivendicava di andare a comprarsi i cappotti sulla Fifth Avenue a New York raccontava quindi ci teneva moltissimo alla sua immagine Buscetta e quello che ha detto Martina il fatto di riconoscersi in un'idea antica di mafia ed un'idea di valori di un certo tipo è curioso ma è quello che lo convince a fidarsi di Giovanni Falcone giocava a calcio per strada con Borsellino e ciò che gli fa rivedere è quella Sicilia allora lui dice di te mi posso fidare ed è l'unico con cui Buscetta vuole parlare ed è l'unico con cui parla Falcone quando Buscetta arriva dal Brasile viene catturato in Brasile e stradato in Italia avete visto la foto di prima aveva una coperta a coprire le manette proprio perché ci teneva questa immagine non voleva essere il criminale e sarà però grazie a Giovanni Falcone che lo riesce a convincere a parlare a spiegare come funziona cosa nostra punto chiave questo perché tutto il maxiprocesso e l'opinione pubblica nei confronti del pool antimafia gira su come funziona cosa nostra cioè nessuno sapeva cosa c'era dietro la mafia si vedevano le stragi si vedevano le bombe si vedevano i morti ma questa idea di fare un processo alla mafia ma poi come erano gli ingranaggi che muovevano questa mafia non si conoscevano lo scopriamo e lo scopre Falcone grazie a Buscetta che gli spiega che Cosa Nostra è governata da un organo centrale questa questa cupola di Cosa Nostra questa commissione di Palermo che decide quali sono gli obiettivi non solo stragistici ma anche economici dove si va a investire come si investe chi si muove chi non si muove tutto questo è il cuore del maxiprocesso esatto cioè Buscetta dà sostanza all'idea che la mafia sia un fenomeno con una struttura verticale con una struttura centralizzata e che non sia quindi come dire il risultato quasi casuale di sbandati sparsi che era invece una teoria che fino a poco tempo prima veniva avanzata da molti cioè l'idea che la mafia come entità organizzata non avesse non avesse una una sua struttura per così dire unica e diciamo sulla base di delle intuizioni di Rocco Chinnici del pool sulla base delle dichiarazioni del primo pentito Buscetta peraltro nella sua estradizione nel suo convincerlo a cooperare con la giustizia italiana ebbe un ruolo anche una figura che poi ha avuto molti altri incarichi come sappiamo nei decenni successivi Gianni De Gennaro che è stato poi capo della polizia e molte altre cose e che all'epoca era capo della criminal poll si arriva a che cosa? Si arriva a un momento che è la svolta che porta poi se vogliamo al momento finale verso il quale ci stiamo dirigendo nel racconto cioè il cosiddetto maxiprocesso no? Qui abbiamo l'aula che è di per sé indicativa no? Lollo perché noi siamo se abbiamo visto le immagini del maxiprocesso abbiamo pensato boh sarà stato nel tribunale di Palermo invece no è stata costruita apposta nel carcere del Lucciardone di Palermo l'aula bunker la chiamavano l'astronave verde per questo per questo colore è un'aula è un'aula di tribunale appositamente costruita per fare il maxiprocesso in pochissimo tempo è stata costruita tenete presente che Buscetta arriva in Italia nell'estate dell'84 partiamo con il processo con il maxiprocesso nell'85 6 6 6 6 quindi in pochissimo tempo viene costruita un'aula bunker perché capace di resistere ad attentati terroristici ad esplosioni a incursioni ci sono 30 celle in cui mettere gli imputati anche questa è una grande novità lo si vede bene qui vedete le celle laterali per cui gli imputati non sono vicino agli avvocati sono separati vedete e Martina torno a te che cosa succede nel maxiprocesso nel maxiprocesso si cerca di far approvare far riconoscere il teorema Buscetta ovvero l'idea che cosa nostra sia a tutti gli effetti un'organizzazione criminale con una struttura verticale con un impianto con una costituzione perché poi questa commissione si è data anche una costituzione con delle sue regole dei suoi obiettivi e oltre a questo ovviamente ci sono 474 condannati e nel giro di pochissimo in realtà perché appunto abbiamo detto che il processo comincia nell'86 e nell'87 abbiamo già la prima sentenza effettivamente dopo un anno abbiamo la conferma del teorema Buscetta e la condanna di praticamente tutti i condannati tutti i processati forse è giusto qualcuno qui l'occhiello dice si è salvato solo Calò condannata tutta la cupola però questo è il primo grado sì questo è soltanto il primo grado c'è da dire intanto che è un grandissimo successo dobbiamo interpretare la sentenza di primo grado come il primo vero colpo inferto alla mafia e anche il primo colpo che fa un po' tremare le gambe a Totorina che intanto è diventato diciamo lui il leader dei Corleonesi e che come risposta comincia a uccidere quasi tutti i parenti di Buscetta come segnale sia per lui che per chiunque altro a cui venga in mente di fare di pentirsi e quindi di collaborare con la giustizia come diceva Lorenzo purtroppo siamo solo alla prima sentenza perché poi nel 91 nel 90 ci sarà la seconda sentenza che in realtà ribalta di tanto la prima e soprattutto rinnega il teorema Buscetta che era stato diciamo alla base del maxiprocesso quindi c'è un percorso accidentato del maxiprocesso che dapprima riconosce anche con una certa rapidità il teorema Buscetta condanna più di 400 persone di fatto non dico smonta ma colpisce da un colpo davvero significativo alla cosiddetta cupola ma poi nel 90 l'appello la sentenza d'appello fa fare un passo indietro a questo a questo processo manca però un grado di giudizio e Lorenzo l'ultimo grado di giudizio arriva in un anno particolare direi l'ultimo grado di giudizio infatti arriva nel 92 il giudizio della Cassazione che di fatto fa tornare alla situazione del primo grado e quindi va a confermare invece l'impianto accusatorio arriva nel 1992 su cui arrivo tra un secondo perché quello che dobbiamo ricordarci è che tra il 90 e il 92 tra l'appello e poi il 92 quando verrà confermata sostanzialmente la condanna al primo grado forse abbiamo il momento di maggior isolamento di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino Falcone nel 91 viene chiamato a Roma dal ministro Martelli come direttore del dipartimento degli affari penali e alcuni dicono da Roma viene a Roma viene distratto dalla Sicilia e poi così in realtà non sarà perché in quella veste istituirà la direzione investigativa e nazionale antimafia quindi insomma farà dei passi importanti però quella fase lì è la fase in cui iniziano ad esserci delle crepe anche nella percezione pubblica attraverso meccanismi anche di delegittimazione più o meno interessati che colpiscono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che poi noi oggi celebriamo come eroi di quella stagione ma che per molti in quel periodo non erano degli eroi ma erano dei personaggi in cerca d'autore personaggi che cercavano visibilità teniamo sempre presente questo elemento che poi la fine tragica e l'eredità che ci hanno consegnato tende a farci dimenticare questo passaggio ma c'è stato un passaggio in cui erano due figure piuttosto scomode per molti il 92 è importante però perché c'è la sentenza di Cassazione sul maxiprocesso perché non so se come dire è forse l'evento in assoluto che associamo più al 92 insieme alle stragi di mafia nel 92 scoppia Tangentopoli quindi è un momento di grande crisi politica di grande trasformazione c'è il crollo tra il 92 e il 93 cioè il crollo del sistema dei partiti tutto lo sfarinamento del sistema che aveva retto la prima repubblica e allora noi qui abbiamo selezionato un pezzetto di cui abbiamo solo l'audio perché è l'intervista che ci ha rilasciato per il podcast Enrico Mentana che ha però come diciamo sfondo l'immagine della prima edizione del TG5 di cui vi invito a parte i capelli di Mentana e gli occhiali di cui vi invito a guardare la data siamo a gennaio del 92 quindi di lì a poche settimane lo scoppio di diciamo di quello che sarebbe poi diventato Tangentopoli la cassazione sul maxiprocesso e di lì a pochi mesi le stragi di mafia da cui siamo partiti sentiamo allora che cosa ci dice Enrico Mentana sulla sua prospettiva di quell'anno come pochi diciamo un anno interessante se vogliamo essere neutri io ero al primo anno del TG5 che era nato in gennaio e già da febbraio aveva cominciato a ospitare le cronache di Tangentopoli di un'Italia che si stava rivoluzionando da sola in un anno in cui davvero le cose erano destinate a avvenire senza soluzioni di continuità le clamorose dimissioni alla vigilia del 25 aprile di Francesco Cossiga dal Quirinale dopo appunto i mesi terribili degli arresti delle perquisizioni degli avvisi di garanzia di un'inchiesta a mani pulite che aveva mostrato il peggio dell'Italia che contava e quindi questo ci dice qualcosa del contesto anche della difficoltà di raccontare un momento di simile trasformazione mentre ci sei dentro noi in questi ultimi due anni devo dire che stiamo avendo un po' di banchi di prova su cosa vuol dire raccontare momenti che ci trasformano mentre ci siamo dentro il 92 è un momento che trasforma tante cose è inutile che vi dica che a livello internazionale c'era qualche movimento qualche fermento un po' di bollore e chiamiamolo così con la caduta Mure Berlino caduta l'Unione Sovietica il 91 eccetera e insomma questa è la storia che ci porta proprio al 1992 e che ci porta in un certo senso là dove abbiamo cominciato il nostro racconto ci porta al 23 maggio del 1992 che sempre il signore che stiamo vedendo qui raccontò in diretta quel giorno buonasera l'Italia è in lutto per l'uccisione del suo giudice simbolo nella lotta contro la mafia Giovanni Falcone è morto poche ore fa vicino a Palermo in un attentato devastante che ha provocato secondo l'ultimissima notizia anche la morte della moglie e di quattro uomini della scorta un attentato orribile che ha fatto altri dieci feriti tra i quali alcuni sono in gravissime condizioni un attentato orribile anche per le immagini che stiamo per vedere per uccidere Giovanni Falcone sono stati impiegati pensate mille chilogrammi di esplosivo una carica dalla potenza devastante che ha letteralmente polverizzato un lungo tratto dell'autostrada che dall'aeroporto di Punta Raisi porta a Palermo vicino allo svincolo di Capaci e la strage cambia molto ma cambia qualcosa anche qualcosa che accade dopo la strage qui abbiamo i titoli guardate la differenza rispetto ai titoli di prima come è molto più empatico il titolo perché comunque qui davvero si insomma chi l'ha vissuto una cosa che mi ha detto Simonetta Shandivashi che poi appunto come vi dicevo non ha potuto essere con noi ma oggi quando abbiamo parlato dell'incontro di stasera mi ha detto per quella generazione è stato un po' l'11 settembre italiano il combinato disposto della strage di Capaci e di quella di Via D'Amedio è un momento che scuote sicuramente le coscienze questa tra l'altro è la macchina la quarto Savona 15 la macchina di Falcone di Falcone di cui come vediamo rimane rimane poco queste sono le vittime di quell'attentato quindi Giovanni Falcone la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della tre degli agenti della scorta come abbiamo detto prima e però succede qualcosa di importante dopo no? ti lascerei succede qualcosa di importante immediatamente dopo cioè ai funerali di Giovanni Falcone della scorta e succede qualcosa di importante in Sicilia la percezione di quello che è successo e di quella morte è una ferita immediata e profonda che ha ripercussioni però in tutta Italia cioè tutta Italia si collega per vedere quelle immagini ed è un cambio sostanziale è un cambio sostanziale perché se pensiamo che dalla morte di Rocco Chinnici sono passati nove anni quindi non è passato un secolo è passato relativamente poco e quanto però quelle figure di Falcone e Borsellino hanno inciso nella percezione di che cosa vuol dire lottare contro la mafia è profondissima e lo vediamo da queste immagini qui e lo sentiamo soprattutto ed ecco la bara di Giovanni Falcone è un po' come se ne parliamo prima con Eleonora che ha vissuto anche se era molto piccola quella stagione un po' come se ci diceva in Sicilia ci fosse la percezione di doversi assumere la responsabilità di reagire di rispondere e di dare un segnale non solo alla Sicilia ma al resto al resto del paese e poi quello che accade insomma è che la lotta alla mafia diventa effettivamente un tema nazionale considerate che insomma due giorni dopo la strage di Capaci il 25 maggio del 1992 dopo 15 scrutini andati a vuoto il Parlamento in seduta comune quasi diciamo istantaneamente elegge il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro che vedremo tra un attimo in una circostanza diciamo interessante come a dire che la politica che era in quella fase lì davvero in uno stallo molto complicato sull'elezione del Capo dello Stato come se la politica sentisse la necessità di dare una risposta di dare una risposta immediata alla stagione stragista e a questo fatto all'assassinio del giudice Giovanni Falcone poi quello che accade poco dopo quello che accade neanche due mesi dopo è il secondo atto di questa tragedia potremmo dire perché siamo nel luglio del 1992 e come tutti sappiamo viene assassinato Paolo Borsellino qui abbiamo un altro reperto diciamo originale che ci racconta di come fosse sempre lui su canale 5 a raccontare la cronaca di quei momenti Enrico Ventana ed è interessante fate caso a questo chiedo magari alla regia se abbassa un po' le luci quando abbiamo il filmato fate caso a come lui apprende della conferma in diretta perché lui va in onda che non è ancora certo che Borsellino sia morto e poi la conferma arriva dopo l'incubo della strage di Capaci ancora notizie drammatiche tragiche ci giungono da Palermo e come si temeva e come la mafia aveva già sentenziato obiettivo di un nuovo attentato è stato il giudice Paolo Borsellino il sostituto ideale di Falcone come noto nella lotta in prima fila nella lotta contro la mafia l'altro grande candidato alla cosiddetta super procura speriamo veramente che l'attentato non abbia ottenuto il suo scopo per quanto riguarda chi era nel mirino cioè il giudice Paolo Borsellino mentre purtroppo sappiamo già c'è conferma ci sono almeno quattro persone che sono rimaste uccise è giunto il momento di ricollegarci anche con il nostro Salvo Sottile Salvo hai ulteriori notizie? Sì direttore la conferma è avvenuta il cadavere che c'è davanti alla portineria è proprio quello di Paolo Borsellino il magistrato è stato preso violentemente è stato investito violentemente dall'esplosione il suo corpo quello che resta del suo corpo è stato trovato adesso dai corabinieri davanti il suo portone avete notato il momento in cui lui stesso apprende della conferma di qualcosa che non era certo e certo era molto probabile evidentemente ma non era certo quando quell'edizione straordinaria del TG5 era cominciata e anche qui dopo l'assassinio di Paolo Borsellino che avviene qui in via D'Amelio davanti alla casa della madre dove lui andava tutte le domeniche sì andava a trovarla il caso vuole che in quello stesso edificio abitasse un uomo d'onore della famiglia di Bonanno che poi informa gli altri vertici di Cosa Nostra sulle visite frequenti di Borsellino e poi insomma sappiamo tutti com'è com'è andata a finire sì un'autobomba che devasta come vedete ampi ampi tratti dell'edificio almeno dei piani bassi di questo edificio tra l'altro un elemento curioso nella tragedia è che tutti quei palazzi tutta quell'area è un'area di palazzi molto alti figli proprio dell'abusivismo degli anni 50 e 60 vengono distrutte credo 30 macchine 30 automobili dall'esplosione è un attacco veramente devastante questo è il titolo il titolo del Corriere della Sera notate assassinati il giudice cinque agenti di scorta tra cui una donna perché effettivamente la vediamo qui tra l'altro Emanuela Loi è la prima o una delle prime insomma non c'è chiarezza donne in servizio uccise insieme a tanti colleghi che tristemente di cui abbiamo visto tristemente i volti anche prima parlando di Giovanni Falcone cosa accade dopo la strage di Via D'Amelio accade che insomma si ha ancora più la consapevolezza che questa sia una questione nazionale e qui abbiamo come dire qualche immagine dai funerali della scorta sì della scorta perché la moglie di Borsalino si rifiuta di accettare i funerali di Stato credendo che sia stato proprio lo Stato a uccidere suo marito in qualche modo non non riconoscendogli il supporto di cui aveva effettivamente bisogno quindi i funerali di Borsalino poi si svolgeranno in forma privata quelli che stiamo vedendo sono invece i funerali della scorta qui Scalfaro sì esatto qui Scalfaro che viene spintonato da una folla inferocita perché perché per questi funerali viene oltre 4.000 poliziotti vengono impiegati per tenere la folla lontana dalla chiesa in cui si sta svolgendo il funerale con un vero e proprio cordone di polizia e qua vediamo la folla che comincia adesso non si sente però in realtà una folla che comincia a gridare fuori la mafia dallo Stato fateci entrare questi sono i nostri funerali e effettivamente poi riusciranno ad entrare e accusare direttamente molti politici che sono lì presenti per assistere alla funzione questo appunto perché non avesse visto prima il Presidente della Repubblica appena eletto due mesi prima che viene quasi quasi spintonato dentro dalla chiesa insomma cosa ci dice Lollo questo momento è un momento tosto è un momento tosto per per un sistema politico che alla fine dei suoi giorni due anni dopo abbiamo la discesa in campo di Silvio Berlusconi la fine della Prima Repubblica l'ultimo episodio della prima stagione di di cui si fa l'Italia è un momento molto difficile per per l'Italia intera che sente davvero di aver perso due figure importanti la lotta alla mafia però è diventata qualcosa è diventata un fatto nazionale è diventata non è più un fenomeno isolato non è più un qualcosa di relegato alla sicilianità come si pensava prima ma invece è qualcosa per cui tutti abbiamo preso coscienza e sfortunatamente i nostri i nostri fratelli siciliani come ci raccontava prima Eleonora l'hanno presa più di tutti noi provo a concludere un po' con questo questo momento prima delle domande lo dico prima ecco così giusto anticipa che insomma così vi preparate qualche domanda in questi secondi però c'è una cosa che dobbiamo dire prima della parte finale cioè che diciamo di lì a non molto gennaio 93 che cosa accade? accade che i pentiti i collaboratori iniziano a essere di più iniziano a parlare e il mi pare il 15 gennaio del 1993 queste dichiarazioni costruiscono di fatto la mappa che porta le forze dell'ordine a catturare Totorina gennaio 1993 il capo dei capi esatto se posso aggiungere una cosa questi sono anche gli anni in cui viene istituito il carcere duro il 41 bis quindi chi viene condannato all'ergassolo vive all'interno di una cella molto piccola non sono previste visite non sono previste ore d'aria e questo però ha i suoi effetti perché spinge molti mafiosi a pentirsi e a collaborare con la giustizia quindi anche questo aiuta e poi esatto si arriverà anche la cattura di Totorina grazie ad un personaggio in particolare che è Balduccio Di Maggio che anche lui collaborerà con la giustizia fino a creare proprio una strada veramente fino alla villa di Irina e questo segna poi la fine almeno di quella fase della mafia hai detto bene di quella fase perché dopo l'arresto del capo dei capi la guida di Cosa Nostra passa a Leo Luca Bagarella e poi a Bernardo Provenzano è con lui che la strategia di Cosa Nostra cambia Provenzano mette fine alla stagione della mattanza delle bombe degli attentati e in qualche modo si rende invisibile forse perché non conviene più ma forse anche perché i cortei nelle strade di Palermo gli striscioni appesi ai balconi le associazioni antimafia raccolgono l'immagine di un'Italia che sta cambiando di un paese in cui la consapevolezza di cos'è la mafia inizia a dare i suoi frutti grazie a Giovanni Falcone a Paolo Borsellino e a tutte le vittime di mafia davvero possiamo dire al di là della retorica che Falcone e Borsellino siano stati due eroi che lo siano nella nostra coscienza collettiva perché se pensiamo a chi ha combattuto contro la mafia è stato ucciso dalla mafia ma ha vinto la sua battaglia per cui la mafia di oggi ci fa molta meno paura di quella ed è profondamente diversa da quella stragista è tutto merito di quelle figure che sono state in qualche modo l'emblema della nostra volontà di non farci piegare ma anche della volontà di capire di portare a processo di battere nel processo i capi di cosa nostra senza di loro sarebbe una guerra là relegata in Sicilia con le propaggini magari nel resto d'Italia col sacrificio ma prima ancora con la battaglia di Falcone e Borsellino la lotta contro la mafia diventò un'emergenza nazionale come lo era stata nella fase più forte col delitto Moro e subito dopo l'emergenza nazionale contro il terrorismo era ancora una dimostrazione che il paese la nazione il sistema Italia sa entrare nell'emergenza con tutta la sua compattezza il problema è resistere durare riuscire a far diventare permanente quella capacità di lotta c'è una frase di Giovanni Falcone che dà che dà il titolo a un libro curato dalla sorella Maria e che aiuta a dare un senso alla stagione che abbiamo raccontato stasera una stagione fatta di violenza e di terrore ma anche di coraggio e di riscatto e questa frase qui gli uomini passano le idee restano restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini grazie 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 a tutti grazie a tutti